buonasera buonasera dalla voce di chi non ha voce allora oggi come potete avere intuito si parlerà del tempo ma in maniera particolare del cosiddetto ingannare il tempo ma non solo ingannare il tempo la tematica è ancora più importante avete presente quando pensando alla vita pensando al tempo che passa per qualcuno veloce per qualcuno lento in ogni caso secondo me il tempo della vita è molto rapido e quando si pensa a queste cose la mentalità generale porta a ritenere siccome la vita è breve siccome la vecchiaia arriva prima che te l'aspetti è meglio fare tante cose più possibile tante esperienze tanti amori provare mille cose emozioni situazioni eccetera perché appunto poi ti troverai vecchio magari avrai pure rimpianti o comunque poi morirai ecco mi ha suggerito questa tematica un ragazzo l'altro giorno nei commenti non mi ricordo chi me l'ha suggerito scrivetemelo scrivimelo mi è stato detto questo concorda totalmente alla fine quello non significa ingannare il tempo e quindi siccome il tempo è poco freghi il tempo cercano di fare il più possibile perché in realtà non lo freghi il tempo anche se fai cose questo tempo termina lo stesso il tuo tempo termina la vecchiaia arriva la morte arriva quindi l'idea che facendo tante cose mille cose allora avrai ingannato il tempo è assolutamente un'idea molto illusoria perché il tempo passa comunque attenzione non dovete fare intendere il mio non è un invito quindi a non fare mai cose non vivere esperienze non vivere situazioni perché tanto poi si muore no ma è sbagliato è a mio avviso poco saggio avere la volontà di voler vivere tante situazioni voler provare tante esperienze in maniera compulsiva per la paura del tempo che passa perché se fai così innanzitutto le cose non te le godi appieno ma sei frenetico è un fare per il fare non tanto un fare per viverle quelle cose non sei dentro quelle cose sempre quella paura che proietti in avanti e pensi già la cosa che farai dopo questo per me è una assoluta convinzione in più appunto è fallace di per sé perché il tempo passa comunque quindi si possono fare cose si possono vivere esperienze ma quel senza quella smania il tempo passa comunque tu muori abbiamo una certezza nella vita è un mondo in cui le incertezze sono tante poche sono le cose sicure ok ce ne abbiamo una di sicurezza moriamo morite siamo esseri mortali altra certezza collegata a questa è che saremo vecchi e se non lo saremo è perché moriamo prima quindi ancora meno tempo ok questa è una certezza non fuggite anche dalle certezze va bene che tanto della vita è dubbio tanti misteri tante cose non certe ma quando c'è una certezza non fuggite anche da una certezza prendetene atto accoglietela fa parte di noi quella certezza non ha senso fuggire a un qualcosa che fa parte di noi fuggire dalla morte e dall'accettazione della morte significa fuggire da noi stessi e se fuggi da te stesso non troverai mai una pace un equilibrio neanche partiale allora qual è la via saggia avere consapevolezza di questa realtà e poi tu vivere l'esperienza che vuoi le situazioni che vuoi gli amori che vuoi le amicizie che vuoi tutto quello che vuoi ma non nell'ottica che devi vivere perché poi è poco tempo ma semplicemente perché le vuoi fare in quel momento qui e ora dobbiamo vivere nel presente non nella nostra gene con fuori del passato e nella proiezione di un futuro che si ristringe sempre più altrimenti non viviamo le cose che facciamo non c'è qualità c'è solo quantità oltre che ansia quindi viviamo le cose con ansia con ossessione con in maniera compulsiva per quella per quella paura del tempo che viene meno quindi siamo ansiosi siamo stressati abbiamo la paura che ci devasta viviamo tante cose non ce le godiamo nemmeno saggissimo no e allora è più saggio accettare la morte accettare che la vita sostanzialmente è già finita la vita è già finita accettatelo e prima di questo già finita quindi un istante prima di questo già finita nel qui e ora fai quello che nel qui e ora ti fa stare bene che fa per te che è vicino a quella che è la tua parte interiore la tua interiorità la tua autenticità fallo e basta può essere anche solo una cosa possono essere due cose non è quando avrai 80 anni farai salti di gioia se hai fatto 50 cose ti deprimerai se ne hai fatte due non conta il numero di cose che fai conta che tu eri presente in ciò che facevi e ti assicuro che se fai le cose per paura del tempo che passa della morte che si avvicina non sei nelle cose che fai non vivi nulla uno potrebbe dire vabbè che cambia anche in questo senso hai vissuto con frenesia con ansia con tribunazione non vivi nulla veramente tanto muovi lo stesso che cambia così o aver vissuto nel modo in cui tedi tu no infatti in senso assoluto non cambia niente ma stai male ora il mio è un consiglio per essere più sereni adesso ok e tutto il mio canale va in quella direzione io consiglio anche come posso dire una strada per quanto riguarda le ambizioni bisogna ambire a essere persone di successo dove per successo si intende l'approvazione altura la popolarità lo stipendio alto e bla 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 perché? perché sono cose perché ve lo dico? perché non sono cose che portano chissà quale equilibrio che ti scaldano il cuore unicamente per quello una volta che si muore che tu abbia vissuto in maniera profonda dedicando le cose veramente importanti capaci di farti stare bene oppure hai vissuto in una maniera non saggia come ti consiglia l'occidente e quindi domani dall'ansia dalla frustrazione dalla insoddisfrazione infelice non cambia niente una volta che sei vecchi o ancora di più una volta che sei morti non cambia niente aver vissuto il più possibile felicemente o il più possibile infelicemente ma cambia adesso ecco perché io parlo suggerisco vie e condanno tutto ciò che in questa società non va perché vi rovina il presente il presente è l'unica cosa che abbiamo via il passato e via il futuro qui e ora qui e ora gol del mio sguardo se sei una femmina rapati se sei un maschio rapati lo stesso perché questo sguardo va oltre l'eterosessualità dopo questo finale frizzantino vi invito a mettere pollice in su a condividere il video e a rilassarvi a calmarvi e a vivere le cose essendo dentro quelle cose qualunque cosa sia anche guardando il soffitto se tu guardi il soffitto pensando al dopo non te lo godi il soffitto se guardi il soffitto godendoti quell'attimo te lo godi maggiormente e in quel presente stai leggermente meglio ciao